Ciao ragazzi, volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicini con commenti e belle parole per la mancanza del mio collega, nonché amico Piero. Anche questa maniera è una maniera per stare vicino anche alla famiglia, alla moglie e ai figli. Allora, giusto per aggiornarvi un pochettino sulla situazione, domani, mercoledì 10, ci saranno le esequi di Piero presso il Duomo di Valbasone. Insomma, ci tenevo comunque molto a ringraziarvi per il momento difficile, per quanto possa essere difficile per me, non è minimamente comparabile a quanto lo sarà per la famiglia. Ecco, una sola cosa volevo dirvi, è partita una, diciamo, spontaneamente una donazione di denaro alla famiglia di Piero, quindi ai figli di Piero. Non è una cosa che gestisco io specifico, che partecipe in nessuna maniera, però è una cosa che si trova su internet, ho visto che insomma ci sono moltissime offerte, per moltissime non sono mai sufficienti per ripagare una perdita del genere. Comunque vi metto, come al solito, qui sotto il link, se volete darci un'occhiata, se volete partecipare alla donazione, ripeto, io non c'entro nulla, sto facendo solamente di portavoce, da un'attività bella, una bella idea che ho visto che c'è a disposizione. Dopo, ognuno è libero di fare ciò che crede e vi ringrazio comunque per la vostra presenza. Ciao!